La gara di Alianti Trofeo Città dell'Aquila all'aeroporto di Preturo per il secondo anno consecutivo, dopo una lunga interruzione con equipaggi provenienti da tutto il mondo, è l'occasione per fare il punto sullo sviluppo futuro dell'aeroporto dei parchi di Preturo Giuliana Tamburro, che da qualche anno è in gestione alla Sunrise Aviation della famiglia Silveri, esperta da sempre del settore. A guardarlo l'aeroporto oggi ha già una nuova veste, curato, con bar e ristorante riaperti e una programmazione importante sul futuro, perché oltre alla scuola di volo esistente si sta lavorando per un potenziamento generale dello scalo, si sta pensando a un sistema di collegamenti con località turistiche di vario genere. Finalmente imminente l'uscita della gara di realizzazione dell'Hangar per il quale il comune si è battuto, Angar che ospiterà l'Erikson su base annua, per questo ringrazio il consigliere Vittorini e il sindaco Pierluigi Biondi. Grossi progetti, dicevo, riguardo al collegamento delle aree interne con aeroporti di interesse nazionale ed internazionale. Portare nuove persone, nuove comunità a conoscere questo territorio e collegare le nicchie di turismo locale con la realtà nazionale ed internazionale. L'aeroporto di Preturo, Giuliana Tamburro, è il miglior posto al mondo per volare in Aleante, ne è certo Ezio Sarti, presidente dell'aeroclub Gran Sasso d'Italia, Ferro Piludo. Questo è il più bel sito al mondo per fare attività di vola a vela in Aleante. Noi abbiamo delle montagne uniche al mondo incastonate fra due mari, perché qui abbiamo le brezze del Tirreno e dell'Adriatico che si incontrano su questa catena montuosa e in particolare sul Gran Sasso. Lo scorso anno abbiamo avuto piloti che sono venuti dalla Nuova Zelanda. Tutto il mondo del volo a vela sa che quest'area è la migliore per fare questo sport. Si trovano delle condizioni ineguagliabili. Potremmo dire la Nuova Zelanda, ma la Nuova Zelanda sta fra due oceani, non fra due mari. Non siamo fra l'Adriatico e il Tirreno. È tutto un altro mondo. Grazie a tutti.